Incidente giovedì 30 dicembre intorno alle 14 lungo il tratto di strada provinciale 299 tra Varallo e Borgosesia. Per cause e ancora al vaglio delle forze dell'ordine, un furgone Fiat Ducato che viaggiava in direzione Borgosesia si è scontrato frontalmente con un SUV Volvo CX40 che viaggiava in direzione opposta. Il sinistro è avvenuto a circa 500 metri dal ponte di Agnona. Sul posto sono intervenuti immediatamente carabinieri e vigili del fuoco. I feriti sono stati trasportati in ospedale a Borgosesia, tra loro una minorenne. Per lei è stato necessario il trasporto con l'elisoccorso a Torino. Le operazioni di recupero delle vetture hanno causato il formarsi di lunghe code di auto in entrambe le direzioni tra Borgosesia e Varallo. Infatti, a causa del forte impatto, le parti frontali dei due mezzi si sono incastrate e questo ha allungato i tempi di ripristino della viabilità. Grazie! Grazie!